Salve a tutti ragazzi, rieccoci a un nuovo video. Oggi vi voglio far vedere come disattivare Amazon Prime. La procedura della cancellazione di Amazon Prime la faremo vedere sia dal computer sia dal telefono. Io vi consiglio di non cancellarsi, non disattivare Amazon Prime, perché ci sono dei benefici veramente interessanti. Se voi comprate tanta roba su Amazon, vi consiglio di non disattivarla. Invece se voi volete veramente risparmiare dei soldini, volete comprare sempre meno, anche della roba, perché spesso e volentieri compriamo della roba che non è indispensabile. Vediamo una cosa che ci piaccia e noi la compriamo su Amazon. Infatti questa di Amazon Prime è una strategia eccezionale di Amazon che usa per vendere di più. Quindi se volete risparmiare, rinunciate, però vi dovete ricordare che rinunciate tanti servizi. Anche se io purtroppo sulla carta vedevo delle... praticamente non pago 36 euro all'anno, ma pago molto di più. Non ho capito bene ancora il perché. Comunque io vi faccio vedere la procedura passo per passo. Per prima cosa andiamo su un browser del computer e scriviamo Amazon.it. Andiamo su Amazon, ci logghiamo, accedi. Dopo che ci siamo loggati ci viene il nostro nome, come siamo registrati. Clicchiamo qua, senza andare nel menu, clicchiamo direttamente qua. Come vediamo qua ci vengono altre voci di un menu diverso. Clicchiamo su Prime, qua. Poi come vediamo qua ci viene scritto annuale 36 euro. Anche se come vi dicevo le mie cifre sono diverse nella carta. Scala del 17 ottobre 2021. Iscrizione, dobbiamo cliccare qua in basso, aggiorna, cancella e altro. Clicchiamo. Andiamo qua. Termina, iscrizione. Qua ci viene una lista di quello che perdiamo. Spedizione in un giorno, più di 2 milioni di canzoni Amazon Music, streaming, film, serie tv, prime video, offerte esclusive, books e molto altro. Noi vogliamo rinunciare e clicchiamo termina i miei benefici. Come vediamo qua siamo a metà strada. Andiamo in basso. Cancella, iscrizione. Abbiamo quasi finito la procedura. Dobbiamo cliccare qua. Cancella e rinuncia benefici a partire dal 17 ottobre. Se noi clicchiamo la procedura dovrebbe essere terminata. Quindi dovremmo aver fatto tutto. Può essere che chiede qualche altro passaggio ma direi che la procedura è alla fine. Adesso passiamo al telefono. Anche sul telefono andiamo tramite il browser. Io vi consiglio di fare così perché è più semplice. Andiamo su Amazon.it Se non siete loggati ovviamente anche qua vi dovete loggare. La prima cosa che dobbiamo fare è andare a cliccare nelle tre righe in alto a sinistra vicino alla scritta Amazon, vicino al logo. Clicchiamo nelle tre righe. Andiamo a cercare la voce Prime. Come vediamo è qua in mezzo. Prime clicchiamo. Scorriamo fino in fondo. Clicchiamo su il mio Amazon Prime. Clicchiamo gestione, iscrizione. Aggiorna, cancella e altro, qua in basso. Clicchiamo termina l'iscrizione. Come vediamo anche qui ci porta in una schermata uguale a quella delle computer. Andiamo sempre in basso. Termina i miei benefici. Cancella iscrizione, sempre in basso in fondo. Come vediamo anche qui siamo alla fine. Cancella rinuncia benefici dal 17 ottobre 2021. Io direi che la procedura era semplice. Vi chiedo di seguirmi su YouTube. Mi chiamo Edward Simoni. Un saluto a tutti.